ciao ragazzi sono al ciao lo vado a sapere ma su youtube questo no siii cazzo sono al campo di sorrento ciao io sono iscriviti al canale di momen98 è il migliore si lui è il traditore che lui è firestorm se abbiamo un altro canale è lui ciao sei lui è uno dei due traditori che ci ha abbandonato il canale sono al campo di sorrento e devo rifare uno speciale a breve e devono uscire anche altri due video sul mio canale e non so e col cazzo in culo andiamo e non so quando li faccio mi inquadra un po' li sto facendo però sono lunghi da oh sono vabbè vabbè forse forse ok allora si comunque sto facendo questo video perché usciranno tre video uno speciale per i 10 iscritti e due video così a cazzo di cane ok è la grande puttana salutate uno questo è di piccino picchina allora salutatelo uno dei fare come hai osato come hai osato come hai osato davvero schiaffa me aia puttana di merda come ho detto 300 mila volte usciranno tre video si usciranno tre video uno speciale 10 iscritti altri due così va bene è un video così a cazzo di cane chiamiamolo vlog va vlog si vlog vlog è un gabbiano cacchera in testa bichels ciao ciao